Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Questo che state per vedere in realtà è un bellissimo fuori programma, una cosa che non mi è ancora mai capitato di fare, quindi questa è la prima volta e spero che la cosa vi possa interessare. Andiamo subito a capire di che cosa andremo a parlare oggi. Per chi non seguisse questo canale dall'inizio vi ricordo che questo inizialmente era nato come una sorta di diario di bordo per me, una specie di taccuino virtuale dove mi annotavo le cose che facevo o le cose magari che imparavo in altri corsi o che imparavo da altri colleghi o che imparavo da solo sbattendoci la faccia, venivano scrupolosamente annotate in questo diario di bordo video, quindi venivano registrate ed erano poi lì a disposizione soprattutto mia, quando mi dimenticavo qualcosa andavo a rivedere i miei video, e in questo modo la mia memoria è anche notevolmente migliorata. A questo punto però la cosa diventa utile anche per un ampio bacino di utenti che poi siete voi che state usufruendo di questo video. Di che cosa andiamo a parlare oggi? Mi è capitata oggi in ufficio una cosa molto simpatica, mi sono incapricciato di un font. In particolare stavo navigando su un sito perché dovevo replicare una grafica per una promozione di un nostro cliente, la grafica target diciamo, era quella del brand di gioielli Pandora che sicuramente conoscerete. Ora, si dà il caso che data la grafica di Pandora fornita dal nostro cliente, noi dovevamo replicare un design e adattarlo a un diverso formato. Ora il mio primo pensiero ovviamente è stato, se avessi il font potrei scrivere quello che voglio io, potrei riarrangiare la frase come voglio io. Ovviamente il font non ci viene fornito e non solo, andando sul sito scopro che quello non è il font del nostro cliente, ma è proprio il font di Pandora. A questo punto un sacco di interrogativi si affollano nella mia mente. Esisterà questo font? Lo troverò online. Dopo una rapida ricerca mi rendo conto che questo font è un font creato su misura per Pandora, infatti si chiama Pandora Display. È proprio un font custom che viene creato da un designer di cui ignoro il nome e l'indirizzo e viene creato specificamente per il brand Pandora, quindi è un font che non si trova in giro. A questo punto che cosa succede? Ed è proprio di questo che vi voglio parlare. Come si fa a craccare un font custom dal sito di un brand? Io non lo sapevo, l'ho imparato oggi e siccome ce l'ho ancora fresco in mente ve lo voglio raccontare subito, in maniera tale che quando me lo dimenticherò, e fidatevi me lo dimenticherò, sarò in grado di andare a ricordarmi come si fa guardando il mio video, ma non solo. Questo video sarà utile anche a chiunque di voi voglia andare a, diciamo, rubacchiare i font di brand famosi dal loro sito. Ora, attenzione, un conto è andare su un sito di un brand e rubargli, diciamo, il font, nel senso prenderlo senza consenso. Questa è una cosa che io vi faccio vedere per fini dimostrativi. Ovviamente, nel momento in cui voi andate a sgraffignare un font custom, io vi sconsiglio di utilizzarlo per fini vostri, soprattutto commerciali, perché essendo un font custom è molto riconoscibile. Se il brand viene a conoscenza del fatto che avete preso il suo font e l'avete utilizzato per i vostri scopi, soprattutto se commerciali, mette in campo una schiera di avvocati e voi passate veramente dei brutti momenti. Quindi, un conto è, io adesso vi faccio vedere come si fa, però vi sconsiglio di utilizzare dei font eventualmente sgraffignati da siti web per dei propositi commerciali. Ve lo sconsiglio caldamente. Perfetto, siamo pronti per cominciare le operazioni. Andiamo innanzitutto ad aprire Google Chrome, che è l'applicazione che useremo per rubare il nostro font. La prima cosa che dobbiamo fare, ovviamente, è andare sul sito di riferimento. Quindi io digito Pandora, come potete vedere l'ho già visitato, andiamo ad aprire il sito. Ora, una volta che siamo sul sito, andiamo su View e andiamo su Developer e Developer Tools. Si apre questo meraviglioso pannello. Se noi andiamo a selezionare questa freccina, questo è un puntatore, come potete vedere ci dà delle informazioni e possiamo vedere che fonte è stato usato. Pandora Display è il font che ci interessa. A questo punto, quello che dobbiamo fare è andare su queste freccine, selezioniamo Network, si apre una nuova schermata. Andiamo a selezionare i font. Come potete vedere, ci dice di fare un refresh, perché altrimenti non funziona. Quindi premiamo Command R e facciamo un bel refresh. Vediamo che a questo punto compaiono i font che sono stati utilizzati in questa pagina, che infatti sono i Pandora Display. A questo punto, se io vado a cliccare col tasto destro e clicco su Apri una nuova finestra, vedete che non si è aperta una nuova finestra, ma è stato scaricato un file. Andiamo a vedere da vicino che cosa abbiamo scaricato. Ci rendiamo conto che si tratta di un file con estensione UOF2. Io non avevo mai visto questa cosa prima d'ora, ma ho scoperto, parlando con i colleghi, che si tratta di un formato web per incapsulare i font. A questo punto comincio a capire di che cosa c'è bisogno. Abbiamo bisogno di convertire un file UOF2 in un file OTF, quindi in un file in grado di essere letto dal nostro sistema. Come potete vedere, ho già provato diverse soluzioni. Quella che ho scoperto funzionare è questo sito qui. A questo punto andiamo a selezionare il nostro file, andiamo a prendere il font che abbiamo scaricato, lo carichiamo su questa piattaforma, lo convertiamo in OpenType Font e andiamo a scaricarlo. Andiamo a vedere che è stato scaricato un nuovo file. Questo è lo zip che ci ritroviamo. Io vado a decomprimere lo zip, mi ritrovo una cartella. A questo punto lo zip lo buttiamo via. Trovo una cartella che, alleluia, contiene i miei bellissimi font custom che sono stati correttamente scaricati dal sito e sono pronti per essere installati sul mio sistema. Bene amici, abbiamo visto questa simpatica piratata, questo piccolo fuori programma volge al termine. Io sono contento di essere riuscito a tirare fuori un video anche in settimana e vi invito a questo punto a seguire questo canale, a lasciarmi un like e un commento sotto questo video, soprattutto se vi è servito a qualcosa. Rimanete aggiornati, cliccate su quella campanella perché ci saranno degli aggiornamenti e sono sicuro che non volete perderveli. Con questo io vi lascio e vi do appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti i nostri amici.